Visita oggi il mio nuovo store online www.xuder.it Tante magliette, felpe, prodotti stagionali e ad edizione limitata www.xuder.it mi raccomando e ovviamente codice creator XIUDERONE E adesso video! Il caffè, XIUDERONE, il caffè è proprio un c'one e poi stressa anche i maroni che parla troppo e urla sempre strilla mamma mia che testa che mi fa ma lo nostro XIUDERONE è quello che porta il granone se io qui non ci sarò a che il c***o mamma mia Mamma mia Ma scorda! Sono qua! Diggi di no a tenerli! I miei moderatori fanno una fatica Ecco, no! Inghilterra! No! No, 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 no! Gli scusami! No, no, no! E se poi prendiamole parate? Eh, no, hai un canale di cucina! È un canale di cucina! No, ma non è... Ma io quest'anno vado in 5 stelle? Forse non è chiaro, ragazzi. No, neanche! Perché è l'ora! Voglio anche la signora che mi pulisce l'anno quando ho finito... No, è vero, è vero, sono in un live di cucina. Insomma, dai! Dammi le mani, dai, testa di c***o, siamo in una live di cucina, ma sei un minchione, non siamo nelle tue live di c***a, ecco, adesso glielo vedo, dove la coglionanza non ha limiti. Il big flame, e questa è grossa, eh, e questa è grave. Amore, devo dirti una cosa. Sono stressata già, mi stressa la via, sono stressata, no, faccio più. Io sono Harry Potter. Lui è Harry's Proffre, non è dai, Harry Potter ha fatto la magia, rutto è libera, scorreggia è libera. Io non ce la posso fare. Oh, Simo, mi fa tenerezza a vederla da sola senza lo ziuder, ormai è abitudine a vederla con lui a cena. Sì, però... Amo, porta gli stracci! Dentro gli stracci! Cristo, ma mi ha fatto sbagliare, cos'è successo? Mi ha fatto c***are addosso? Amo, porta gli stracci! Dentro il 36, dentro il 36, dentro il 36, attenzione! Buon ordine l'India. Ciao. Che cosa? Che cosa, Yash? Ciao! Dimmi per esempio qualcosa. Non ho detto che sia appena stata a porta. Grazie, Yash, comunque. Crautino, Crautoni, come stai? Vorresti che ti dicessi un segreto. Buonasera, Peppe! Buone segreto! Un segreto che conosco solamente io. Dai, vieni vicino che te lo dico. Buon appetito anche a voi, buona cena, ragazzi! Più vicino. Come sono che abbiamo avuto le prove? Buone! Arrabbiarti, metti un poco di allegria, la tua mano nella mia, con un po' di batticuore, con un poco di calore e tutto il resto porta via. Dai, affanculo. Ho sbagliato di un pelo, figa! Ma Dio! Ma va! Ma no! Ma dove? Va! Oh! Vai via! No, porca tro... No! Un momento! Vai fuori! Scusate, scusate, putzini. Ma ragazzi! Eh, ridete, ridete! Lei potrebbe fare lo sponsor Pantene. Anche io utilizzo Pantene per i miei capelli. Sons dies the feeling that was near when it's getting fried. And it's got it when it's got for you. Ah, bilwe, uomile. Non ci sono. Credo c'è una cosa che non vada fatta. Oh, mi sbaglio. Andiamo a fare un po' di merda dopo. Dai, amore! Andiamo a scagare la patuto. Ascretti là. Ma se ieri era tipo una fuocamola carinata sul divano. Ma va! Era in là tutto scannato sul divano, figa. Ma va! Sembrava un'orca assassina, figa. Tirati su da lì. Con il cuscino in faccia. Che cosa fai? Adesso io ve lo voglio dire. Comunque... Su, Uca! Su! Scusate. No, fanni momi in un cazzo. Questa roba qui. È un canale di cucina. Però uno lo presa. Non lo smetti di fare lo scemo. Scusami, muore mio. Perché non è per farla diventare gialla. Però è la classica pasta, ragazzi. Quindi... Ma miserre, ma Cristo, ma perché devi... Ciucciare. Tira fuori la lunga. Hai messo le mani nel c***o? Sì. No, nella p***a. No! Va bene, ma però dai. Scusa. Dai, però non si può. Cioè, cosa mi dice? Ma per favore. Prova della pasta. Prova la pasta. Prova la pasta. Prova la pasta. Prova la pasta. No. Adesso, adesso lo faccio. Che me ne vado. 0,33. Le prendiamo. Le versiamo. E così mi contengo anche con l'alcol. Va bene. Ciucciare. Va che ci... Prendi il tovaglio. Dai, guarda qua. Vai. Cosa? Spettiamo? Stiamo un attimo in una situazione... Fuori su! Si è tagliata il dito. Pu! E va la messa dalla parte del dito. Ma uscati addosso. Ma è calda? C***o! Ma non lo so. Cosa vuoi pretendere? È bollente. È ostionante. Non sono capace. Non sta a muovere. È legnoso. No. Posso parlare un affiatore? È un gioco. Oddio, è besto. Tu sai parlare. C'è besto che dice prego, prego. Dai, che stazzo. E' besto. Tu, ascolta, una cosa, tu il grasso del guanciale lo butti nell'uovo? Perché io non lo butto nell'uovo, lo lascio in padella e poi la mangi stasera. Ma me la mangio dopo, ma dico, se hai pesato, com'è possibile che sia così tanta? Oh, ma basta. Qual è il tuo problema? Mamma mia, per la pasta, adesso è diventato tutto che pesa. L'avanzi, è pasta fredda. Qual è il tuo c***o di problema? Mi tira fuori la cattiva... Le ma... 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 Tutti questi problemi che non ha mai pesato la roba, adesso non mi vengo. Tutti questi problemi che non ha mai pesato la roba, adesso non mi vengo.